L'ultima, Sevedicard già fuori, Patrick Pile contro Joel Camatias, gira stretto Pile che a questo punto può mettere a tavoletta il 4 di 3 della sua 997, prende la prima posizione in maniera abbastanza facile mentre c'è quasi una toccata tra Jao e lo stesso Camatias che ha perso un paio di posizioni, andiamo a vedere, e si ha perso un paio di posizioni, Ricci ha mantenuto la seconda piazza in maniera abbastanza tranquilla, non c'è stata possibilità di andare a cercare l'attacco per la leadership ma si tiene dietro per il momento proprio il pilota portoghese, Ciò ci ha anche, cerca di farsi vedere lì all'interno, cerca di passare Pillock che ha soffiato la posizione allo stante, c'è subito un problema per Hassan Red, numero 15, qui sfila tutto in...